Ciao ragazzi, vediamo adesso un circuito di braccia, quindi per la parte alta soprattutto, usando l'elastico e non usando nessun appiglio se non il vostro corpo, i vostri piedi in particolare. Vedremo tre esercizi, un esercizio per i bicipiti, uno per i tricipiti e uno per le spalle, quindi delle alzate laterali. Andiamo a vedere, posizioniamo, cercando di stare alla stessa altezza, da qui pieghiamo leggermente le ginocchia, teniamo sempre in pre-contrazione l'addome e andiamo a fare una flessione dell'avambraccio. Cambiamo e andiamo a fare l'alzata laterale. cercando il più possibile di non superare l'altezza delle spalle nell'alzata e di fare una leggera rotazione esterna del polso, della mano. un'altezza delle spalle. Una leggera rotazione è un'altezza delle spalle. Un'altezza delle spalle è un'altezza delle spalle. una leggera rotazione è un'altezza delle spalle. una leggera rotazione è un'altezza delle spalle.